ben tornati in Pax in Fiore ciao Davide ben trovati a tutti e a tutti ciao ciao come va caro Ivan tutto bene grazie Davide siamo pronti per un'altra puntata di Pax in Fiore vediamo se qualcuno si unisce così possiamo parlare insieme dialogare con i nostri soliti ascoltatori però qua adesso in diretta e non in differita nel podcast sì perché trovo che comunque questa modalità di partecipazione sia davvero straordinaria quindi spero si sviluppi alla grande soprattutto è un'emozione il fatto di registrare queste puntate e poi risentirle quando verranno pubblicate per la stagione 2 del nostro podcast che è questo stiamo facendo no infatti la cosa bella è che comunque chi ascolta il podcast poi può sentire semplicemente le riflessioni tramette chi invece partecipa qua adesso in diretta può interagire e quindi una volta poi che pubblicheremo questi brani nel podcast ecco che sarà effettivamente protagonista della puntata che verrà creata e prenderà forma mano mano in questa oretta proprio grazie all'intervento di chi vuole venire abbiamo fatto un sondaggio per vedere qual era l'orario preferito e appunto è stato votato quello che avevamo scelto già all'inizio quindi tra le 17 e le 18 ogni lunedì sul tuo canale telegram quindi adesso vediamo come andrà questo esperimento che abbiamo inaugurato con lo scorso episodio benissimo sai oggi vorrei parlare del signor caro Ivan sai che sei andata un po' la linea e non ho sentito di cosa volevi parlare ai 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 queste sono delle magagne che daranno fastidio nel podcast mi senti? sì 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 ottimo dicevo oggi vorrei parlare di Carl Gustav Jung oh grande figura della psicologia psicoanalisi ma non solo lui poi diciamo che alla fine della sua vita un po' esagerò si sentiva si dice così che esagerò magari aveva raggiunto un certo livello di consapevolezza comunque si sentiva mistico perché poi lui attraverso l'indagine psicologica cominciò ad indagare la spiritualità cominciò a praticare quello che ai tempi si chiamava spiritismo no? il fatto di riuscire a trovare una connessione col mondo dell'aldilà chiamato spiritismo perché era in effetti una pratica no? e quindi e quindi sapete cosa? vi faccio vedere il libro e per chi sentirà l'audio ci immagineremo la copertina anche questo è bello in base al titolo e all'autore ci immaginiamo la copertina sì infatti ve la descrivo comunque il libro è questo Jung psicologia dei fenomeni occulti allora io questo libro in realtà l'ho trovato non lo conoscevo l'ho trovato a casa chissà perché è scritto sapete a quella maniera un po' un po' pesante da leggere no? infatti libri d'altri tempi bravo libri d'altri tempi infatti non l'ho letto subito perché sapete questa scrittura piccola poi ci sono considerazioni notevoli in un certo spessore comunque sia poi è arrivato il momento giusto ho cominciato a leggerlo e me ne sono appassionato qui indaga fa un'indagine riguardo diversi tipi di pazienti ma si concentra su quelli considerati nevrotici perché sapete qui siamo metà ottocento all'incirca e si cominciava a parlare di psicologia gli psicologi venivano chiamati gli alienisti veniva chiamato alienista lo psicologo parentesi di cui c'è una bella serie su netflix chiusa parentesi quindi ci si concentrava a quel tempo sulla nevrosi sull'isteria era un argomento che scottava a quei tempi allora si collegavano i fenomeni di connessione con l'aldilà con le nevrosi quindi lui qui ci vuole spiegare che nella maggior parte dei casi questi fenomeni non sono altro che nevrosi psicotiche però indagando si è reso conto che alla fine queste nevrosi possono essere una reazione di una buona riuscita di connessione con l'aldilà in sintesi ragazzi comunque c'è un lungo capitolo riguardo una una ragazza dove cioè parlare di psicosi è assurdo perché descrive nel minimo dettaglio quello che lei vede con chi parla e descrive anche una cerchia io ho poi fatto delle indagini una cerchia di livelli energetici di cui non parla è una cosa ormai consolidata ma sto qui a leggerveli perché se no non si capirebbe niente se non si legge tutto il libro comunque tu cosa pensi di Jung Ivan lo conoscevi guarda Davide lo considero come tanti altri un po' un pioniere perché effettivamente poi quali sono gli scienziati del passato che ci ricordiamo non ce li possiamo ricordare tutti né tantomeno ci ricordiamo tutti quelli che hanno fatto delle scoperte o delle invenzioni abbastanza importanti ci ricordiamo solo quelli veramente tanto tanto notevoli e quelli tra l'altro che hanno sono stati in grado di precorrere i tempi ecco lui certamente Jung è stato un grandissimo filosofo innanzitutto perché ha veramente innalzato il pensiero fino a un livello che prima non era stato immaginabile per come lo ha configurato lui oltre a a fare questo cosa ha fatto praticamente si è reso conto e ha studiato in maniera razionale comunque dei fenomeni cercando appunto di ricondurli a un metodo scientifico no sottoporre lo studio di questi fenomeni a un metodo scientifico ovviamente all'epoca ancora non si avevano delle conoscenze come possiamo dire fondanti che potessero spiegare in maniera razionale in maniera anche completa e globale quei fenomeni che lui aveva evidenziato oggi però dopo qualche decennio perché alla fine non è passato così tanto in realtà saremmo anche in grado di trovare una spiegazione teorica alle cose di cui lui si era reso conto e quindi per esempio il nostro attingere inconsapevole naturalmente a degli archetipi che esistono da sempre che sono connaturati in noi e che sono condivisi con tutte le altre persone almeno cioè almeno con tutti gli altri esseri umani di oggi di ieri di sempre ma in realtà e questa è una distinzione che non avrebbe alcun senso e molto meglio sarebbe dire che in realtà questa connessione questo questo brodo primordiale se lo vogliamo chiamare così di idee un po' come il mondo delle idee di Platone effettivamente condiviso con tutto quello che esiste la fisica quantistica quella vera però non quella da marketing non quella della medicina quantistica della chimica quantistica eccetera no la vera fisica quantistica è in realtà in grado secondo ciò che affermano quasi tutti i fisici più importanti al mondo solamente pochi sono rimasti quelli che ancora non hanno accettato la grande rivoluzione in atto in realtà da circa un secolo perché già Einstein ha posto le basi per questa rivoluzione all'interno della branca principale della scienza che appunto la fisica bene quindi stringendo molto il discorso naturalmente la come dire la concentrazione la presenza di particelle molto piccole nella nostra materia che hanno dei comportamenti assolutamente assurdi rispetto alle classiche leggi della meccanica alle quali eravamo abituati e alle quali non siamo più abituati appunto perché è nato questo vero e proprio cambiamento bene tutto questo ci permette di astrarre un attimo le considerazioni e quindi arrivare anche ad affermare che appunto questi fenomeni che sembravano strani all'epoca e che trovavano una sorta di spiegazione sembravano trovare una spiegazione solamente nel cosiddetto spiritismo poi da lì ci fu anche l'epoca come dire della Blavatsky eccetera eccetera insomma l'occultismo fenomeni che sembravano più paranormali che normali in realtà caro Davide tutto questo rientrerebbe all'interno di ciò che possiamo spiegare dal punto di vista scientifico ma che ancora all'epoca non eravamo in grado di catturare con i nostri occhi ecco vedo che infatti che libro è quello Davide Allora questa è una rivista che ho trovato ad un mercatino una rivista degli anni settanta dove parla ci sono delle situazioni di spiritismo infatti vedete qua spiritismo e quindi è un cimelio non dico che ci siano informazioni fondate però alcune lo potrebbero essere comunque una rivista di massa per quei tempi ma una di quelle dell'elite ecco e mi ha colpito molto anche perché io l'ho trovata nel periodo in cui indagavo molto leggevo molto sull'al di là sullo spiritismo su certe situazioni animiche e guarda non la posso cioè la devo sfiorare perché è molto molto di guaricita adesso riguardo proprio tutta questa situazione di Jung la mia idea di parlare di lui è partita anche da una citazione che si ricollega un po' alle indagini di cui parlavamo prima sulla nevrosi dove lui dice ho visto persone che diventano nevrotiche quando si accontentano di risposte inadeguate o sbagliate alle domande della vita cercano una buona posizione matrimonio reputazione denaro ma rimangono infelici e nevrotici nonostante abbiano ottenuto ciò che cercavano ecco è un po' la malattia del nuovo secolo anzi dei nuovi secoli quella dell'ansia quella della mania di apparire di essere di avere questa stabilità che in realtà poi ti rende instabile perché resta sull'apparenza no Ivan sì secondo me Davide dobbiamo anche evitare di considerare queste persone che chiamiamo appunto nevrotiche come qualcosa di distaccato da noi cioè noi invece siamo come dire siamo privi di questi problemi riusciamo a vivere tranquillamente eccetera e invece accanto a noi ci sono delle persone che appunto vivono queste situazioni in maniera molto negativa no trovano quindi delle risposte molto semplici le domande fondamentali però poi a un certo punto ecco che tra virgolette impazziscono però in realtà se ci sono queste persone all'interno della nostra società la loro presenza influisce in maniera imprescindibile anche il nostro stato perché facciamo un esempio proprio di fisica quantistica così poi possiamo anche fare il salto per comprendere questo concetto si è visto in tantissimi esperimenti che praticamente due particelle molto piccole invisibili ovviamente a occhio nudo se entrano a un certo punto della loro esistenza in contatto durante un processo fisico per esempio oppure se nascono dallo stesso processo fisico poi le puoi allontanare anche di miliardi e miliardi di chilometri una di queste può arrivare anche in un'altra galassia molto lontana però immediatamente quando tu fai un qualcosa ad una di questa particella ecco che nello stesso momento quella conseguenza avviene anche in quella particella che appunto è lontanissima tra l'altro violando la legge della velocità della luce perché è proprio una cosa immediata neppure si parla di velocità è immediatezza bene particelle che appunto a un certo punto della loro vita entrano in contatto fra di loro però se tu ci pensi Davide come dire tutte le particelle che esistono nel nostro universo sono entrate in contatto fra di loro almeno in un momento dell'evoluzione di tutto ciò che esiste anzi di più sono partite tutte dallo stesso processo fisico che è quello che ha dato la vita a tutto ciò che appunto esiste in questo universo possiamo dire allora il Big Bang bene se questo è vero allora come è stato appunto visto vuol dire che in una maniera o in un'altra tutte le particelle che attualmente esistono a livello microscopico sono unite fra di loro e ciò che avviene su una particella in maniera imprescindibile avviene anche anche in un'altra particella che si trova dall'altra parte di ciò che esiste appunto pensa anche a quelle persone che sono molto legate fra di loro e che anche quando sono lontane comunque riescono a percepire ciò che l'altra persona sente ovviamente sono si conoscono e quindi è chiaro che la connessione è più forte rispetto alle persone che non si conoscono ma la connessione c'è comunque perché appunto sia a livello microscopico sia a livello macroscopico e noi siamo un insieme di tutte queste particelle molto piccole appunto è vero il fatto che una cosa succede da una parte immediatamente succede anche dall'altra quindi noi dobbiamo trovare il modo di entrare molto in comunicazione con queste persone che hanno questi problemi perché così facendo non solo miglioriamo in qualche maniera la loro vita ma miglioriamo la nostra vita e miglioriamo l'intera nostra società già il fatto di attaccarli di affibbiarli di rinchiuderli pensa anche a quello che diceva Foucault questi grandi luoghi che devono rinchiudere le persone che possono essere pericolose per la società quindi di fatto all'epoca le cliniche venivano viste anche in questa maniera di fatto anche le carceri erano viste in questa maniera ma non facciamo altro che fare del male a noi stessi è proprio vero quello che hai detto l'unico problema rimane quando queste persone magari non vogliono essere aiutate poi non è che stiamo parlando di patti arriviamo anche a quei livelli ma noi parliamo di gente normale alla fine e quello che hai detto tu è giusto che hai unificato cioè che hai portato tutti sul livello il problema per esperienza personale posso dire quando queste persone non vogliono essere aiutate nonostante i tentativi e la comprensione allora che tutto fluisce però è bellissima anche quella situazione della connessione perché ti posso dire che io l'ho provata ed è qualcosa di magnifico non è un dono magari che hanno tutti che si riesce a percepire da tutti ma non è ecco non è non tutti riescono a percepirlo ma magari lo provano è una cosa diversa dal classico dire hai un dono o meno è come diceva De Andrè riguardo gli artisti siamo tutti artisti solo che non tutti riusciamo ad esprimerlo no? infatti sono assolutamente d'accordo guarda anche io ho avuto modo di provare questa situazione molto particolare il fatto è che sono riuscito a interpretarla in questa maniera quindi appunto molti altri invece vivono una cosa di molto simile però non se ne rendono conto e quindi lasciano passare questo grandissimo messaggio possiamo dire che è un messaggio di speranza per tutti noi in sordina come se gli passasse davanti agli occhi però non sono in grado di vederlo però come come fai a negare il fatto che nella nostra società così era anche all'epoca di Jung c'è sempre quella visione dell'aiuto caritatevole da Croce Rossino e quindi io capisco perfettamente persone che sono vittima e sono tantissime in realtà credo anche la maggior parte di quelli che incontriamo per strada stanno aumentando a dismisura queste condizioni a maggior ragione da dopo il lockdown e a maggior ragione addirittura nelle persone giovani questa è una cosa tragica bene se tu vedi che lo Stato vuol dire anche le persone che fanno parte delle associazioni hanno quell'atteggiamento che sono lì per aiutarti perché sono lì ad ascoltarti a comprenderti eccetera a qualcuno possono anche girare le scatole e quindi giustamente ti manda a quel paese non c'è la consapevolezza che abbiamo detto prima io che faccio parte di un'associazione mi sento un supereroe e aiuto te che sei comunque una cosa diversa rispetto a me sei una cosa diversa rispetto ai ragazzi che porto per vivere quell'esperienza di cosiddetto volontariato se invece capiamo che siamo un tutt'uno e quindi tu sei come un mio fratello perché effettivamente siamo molto legati fra di noi vale per gli esseri umani ma vale per tutto il resto in realtà è chiaro che quell'atteggiamento viene a cadere e secondo me venendo a cadere quell'atteggiamento da Croce Rossino sarebbe molto molto più facile entrare in connessione con l'altro io delle volte ho notato Davide in questo mondo associativo in generale parlo a tutti i livelli come dire quell'atteggiamento anche di superiorità di chi addirittura va a collezionare tante esperienze di volontariato quindi questa settimana vado ad aiutare il barbone che si trova qua sotto casa mia la prossima settimana vado in quell'altra struttura eccetera e poi mi faccio il selfie con i bambini che ho aiutato eccetera eccetera insomma ho visto anche una mancanza di di umanità di sincerità ecco di sincerità anche perché poi ti interfacci con queste persone ma non lo fai con quella maniera tranquilla genuina che in realtà dovrebbe contraddistinguere no la nostra vita vuoi fare carriera o fai carriera o comunque parli con queste persone in maniera non autentica così come delle volte si fa con i bambini no e come i bambini lo capiscono o lo capiscono a maggior ragione anche queste persone e quindi tendono anche a non fidarsi tanto giustamente io sarei prima a non fidarmi lo vedi negli occhi quando una persona anche se ti sta aiutando dal punto di vista materiale comunque non riesce a entrare davvero in contatto con te non dice realmente quello che pensa non vuole veramente trascorrere quell'ora quelle due ore insieme a te questo Davide è proprio una questione di atteggiamenti in effetti che vale da entrambe le parti però chiaramente se tu un volontario professionista ti approcci con una persona che soffre che sai che ha quel problema non fare la croce rossina il superiore perché anche cioè è comunque non fingere perché a un certo punto a un certo punto si capisce e chiaramente non aiuti nessuno ma alla fine non aiuti neanche te stesso puoi anche far carriera ma alla fine si ritorna al discorso di Jung tu fai carriera sfruttando questi atteggiamenti queste persone puoi anche diventare ricco e ripeto fare carriera ma alla fine resti diventi tu il neurotico perché tutto ti torna perché ti rendi conto che le cose poi non si armonizzano più almeno il mio pensiero riguardo è questo io ho avuto modo di fare associazionismo nel senso che ho fatto parte per molti anni di un'associazione di società civile qui a Catania politica apartitica solo che poi ho notato che comunque la situazione si ingorghesiva ecco metteremo qui va in sintesi credo chi vuol capire capisca no Ivan sì sai che quando io ho notato queste cose in alcune persone ho anche fatto un passo in più nella mia riflessione e cioè queste persone che avevano questo tipo di atteggiamento in realtà non lo avevano solo con l'altro con il prossimo che in quel momento si stavano trovando ad aiutare ma era il loro atteggiamento consueto nei confronti degli altri e poi infatti so anche di altre persone come dire che sono entrate in contatto con queste delle quali sto parlando e che hanno molto percepito questa cosa perché di fatto quando tu ti atteggi in questa maniera con qualcuno qualcun altro poi se ne accorge insomma se ne accorge anche anche nell'ambito diciamo nell'ambito educativo se parliamo di ragazzi nell'ambito volontaristico se parliamo di persone che si riuniscono per andare a fare volontariato ma lo possiamo dire nell'ambito lavorativo eccetera quindi di fatto se tu come dire impianti tutta la tua vita con il dover nascondere sempre un qualcosa di te con il dover sempre voler fare bella figura con il non essere mai trasparente con il fingere interesse riguardo qualcosa anche se quella cosa poi non ti interessa di fatto e mentre ne parli mentre fai la domanda lo vedi a mille miglia che non te ne frega assolutamente niente come fai a dire che non c'è la una una tendenza verso questo verso la nevrosi sì ma di solito tu come fai ad evitare questi atteggiamenti Ivan? ad evitare nelle altre persone intendi? sì cioè se qualcuno ti si rapporta in questa maniera tu cosa fai? allora innanzitutto riconosco immediatamente questa situazione la riconosco proprio a pelle me ne accorgo e quindi come dire i due caratteri già dal primo secondo in cui ci conosciamo non entrano in compatibilità e quindi c'è quella incompatibilità appunto che mi impedisce poi di approfondire ulteriormente la conoscenza e poi se comunque devo averci a che fare perché magari fa parte di una situazione all'interno della quale mi trovo per altri motivi quella incompatibilità viene sempre comunque confermata è noto tra l'altro che queste persone poi si ritrovano con delle altre persone simili con le quali al di là della presenza della prima persona di cui stiamo parlando comunque non mi sarei mai trovato e invece al contrario mi trovo perfettamente con quelle persone che appunto non entrano in compatibilità con questa persona per dire che cosa è questo appunto che da un lato c'è chi comunque si mostra anche nelle fragilità se deve stare in silenzio sta in silenzio perché non vuole necessariamente riempire dei vuoti che delle volte è bello anche che ci siano e dall'altro lato invece trovi delle persone che appunto hanno sempre il bisogno di riempire di colmare un qualcosa che non hanno dentro un qualcosa che non sono riusciti a trovare e questa è la loro mancanza torniamo al punto che abbiamo visto prima tra l'altro se non riescono a colmarla da sé se appunto quindi vivono in uno stato di non pienezza poi in una maniera o nell'altra rivoltano tutto questo anche nelle relazioni che hanno con le altre persone c'è chi si trova bene con questo c'è chi non si trova bene quindi io comunque essendo un carattere molto pacifico assolutamente non guerrafondaio eccetera entro ovviamente in dialogo però senza approfondire troppo anzi io in realtà da parte mia cerco appunto sempre di essere me stesso e quindi comunque cerco di godermi quel dialogo quella situazione che alla fine mi sta anche bene perché io mi trovo bene con le persone in generale però in quello stesso momento contemporaneamente noto che non c'è la stessa cosa dall'altra parte però alla fine non mi tange così tanto però un po' sì perché il motivo è quello che abbiamo detto prima sono d'accordo sono d'accordo anche perché io ho un carattere altrettanto pacifico e comunque cerco sempre sono molto comprensivo probabilmente anche un po' altruista mi sto rendendo conto perché incontrando una persona del genere o scontrandomi cerco sempre di carpire del bene una cosa positiva che possa giovare sia a me che a quella persona chiaramente senza prolungare la situazione se no se io proprio avverto che l'atteggiamento proprio crea solo vuoto se sento che non porta da nessuna parte ciao è la cosa migliore a meno che qui poi non parliamo di amicizie di rapporti personali ci si può provare di più ma sono d'accordissimo con nel condivido proprio questo atteggiamento ora vorrei arrivare al punto invece quando può capitare a noi stessi noi stessi che comunque evitiamo queste situazioni perché c'è chi ne soffre no? tutti possiamo avere possiamo essere un po' neurotici alle volte però c'è modo di esserlo no Ivan? Sì a me personalmente succede quando noto una grande presenza di nervosismo di stress di irascibilità intorno a me quindi nell'ambiente nel quale mi trovo nel quale mi trovo però non mezza giornata una volta all'anno nel quale mi trovo spesso quindi potremmo dire quasi periodicamente ecco quando noto questo mi sono accorto che come dire cerco di reagire subito a questa situazione diventando io stesso irascibile per porre subito freno a quella cosa no? adesso parlo io siccome tu mi stai gridando mentre parli ti grido più forte poi se vedo che la cosa non va bene dopo due secondi allora stacco hai capito? e non non rispondo più e non come dire non reagisco più però nel frattempo continua ad esserci quello stato di di malessere guarda è una cosa della quale tra l'altro mi sto accorgendo ultimamente perché mentre prima ero tranquillo da solo a casa mia la Ferrara eccetera adesso invece convivendo con i miei genitori prima con mio fratello eccetera eccetera come dire devo condividere gli stessi spazi con altre persone però sto notando che questo nervosismo sta crescendo sempre di più in generale anche con le altre persone che incontro fuori e un po' questo mi sta non facendo soffrire ovviamente però mi sta un po' togliendo una sorta di libertà che mi ero creato prima e quindi questa libertà sto cercando invece di custodirla all'interno di me quindi se anche succedono episodi del genere comunque trovo sempre rifugio nel mio stato interiore di benessere e questo è un grandissimo aiuto ed è una grandissima fortuna anche perché una volta che te lo costruisci poi effettivamente lo alimenti sempre di più e c'è sempre quindi è sempre una caverna dove dove mi rifugio e quindi stacco un attimo da questa atmosfera invece mi rendo conto che altre persone che non riescono a staccare ci sono sempre intrise e accumulano sempre di più questo grande nervosismo ma infatti vorrei farti notare il fatto che tu lo hai riconosciuto ne stai parlando ne vuoi parlare ne parli con tranquillità riesci a parlarne e per te è normale parlarne e questo è un punto a tuo vantaggio un punto da cui tu puoi trarre evoluzione da questa situazione negativa perché secondo me come per sintetizzare non tutto in male viene per nuocere io guarda comprendo e capisco benissimo quello che tu hai detto anche il fatto che magari le cose si prolungano e lì si deve aprire un dialogo se si apre un dialogo raga allora si può si ti può armonizzare la situazione non so se sei capito sì delle volte però è veramente molto difficile aprire questo dialogo magari ci provi però dall'altra parte arriva subito il muro che addirittura ti stanga lanciandoti delle frecciate allucinanti e là proprio è come se ti avesse atterrato no? e quindi rimani senza parola rimani così e non sai come proseguire questo è capitato qualche volta eh sì ricordiamoci che comunque dobbiamo pretendere di stare bene quindi di di pretendere la nostra serenità secondo me cioè per quello che ho cercato di attuare delle volte io il dare l'esempio giusto può giocare però io direi che non siamo qui a psicanalizzarci a vicenda sennò questo podcast visto l'effetto Jung Ivan no però secondo me il fatto quello che abbiamo fatto fino a questo momento ci siamo appunto parlati ci siamo detti queste cose e nel frattempo anche coloro che ci stanno ascoltando stanno portando avanti le stesse riflessioni sulla loro di vita secondo me questa è una cosa inconsapevole che abbiamo fatto in maniera inconsapevole noi ma è inevitabile per chi ci sta ascoltando sì è vero lo pensavo proprio mentre parlavamo ed è una cosa molto bella che spero mi auguro sia di giocamento in effetti come detto tu a chi a chi ci sta ascoltando e così mi è saltata alla mente un'altra citazione riguardo proprio lo stare con noi stessi la coerenza con noi stessi di ciò che vogliamo e la citazione è questa il peggior tradimento che puoi fare a te stesso è rinunciare a fare ciò per cui ti brillano gli occhi nel senso che se tu rinunci è semplice a ciò che ti piace sacrificandoti per atteggiamenti magari negativi allora sì quello è un tradire te stesso ma soprattutto è un un ammalare te stesso un avvelenamento che poi si si diffonde non solo in te stesso ma poi si si crea si innescano tutta una serie di energie che non vanno bene che devono essere risanate totalmente d'accordo Davide è anche centrato in pieno una cosa della quale mi sono accorto che ho visto praticamente se ecco tu hai detto se rinunci a fare quello che ti piace no forse addirittura ci sono persone che avendo cominciato a lavorare molto presto perché appunto bisognava guadagnare avevano la visione già del matrimonio da portare avanti il prima possibile eccetera eccetera forse mai hanno scoperto che cosa gli piace fare ecco e stanno ancora oggi continuando a operare in quel in quel lavoro nel quale quindi ormai sono avviati hanno la loro carriera eccetera non potrebbero fare altro senza essersi mai interrogati appunto su cosa gli piaccia fare sapendo però che quello che fanno comunque non gli piace ecco infatti l'ho detto da alcune persone che questo comunque porta ad uno stato patologico cioè ti porta a sviluppare uno stato di malessere e ho visto in maniera lampante che questo tuo stato di malessere anche se forse non è molto visibile a chi non ti conosce bene no anche se quando vai in giro a a cenare fuori eccetera sembra che tu stia a posto eccetera eccetera in realtà ci sono degli atteggiamenti ci sono dei comportamenti che evidenziano in maniera eclatante questo tuo stato di malessere perché se tu ti nervosisci subito per una questione che non ha assolutamente alcuna importanza alcuna rilevanza della quale si può parlare tranquillamente vuol dire che c'è un qualcosa che non va bene al di là ovviamente di quella situazione al di là di quella parola che è stata detta no e poi incrementando questo e se questo si aggiunge a un'altra persona che magari vive una situazione simile quindi va anch'essa subito in escandescenza ecco che l'atmosfera diventa qualcosa di bellico in effetti cioè tu vivi continuamente questo questo stato brutto e tra l'altro c'è un'altra cosa da dire perché perché se tu arrivi a un certo punto della tua vita quando magari hai 50 60 anni così e poi che cosa fai poi hai finito di lavorare e non sai effettivamente che cosa ti piace non sei educato a saper impiegare il tuo tempo per il tuo benessere no e quindi la crolli definitivamente non ti senti più utile infatti proprio a riguardo io ho saputo l'anno scorso di proprio di di queste situazioni di molte persone che arrivate al pensionamento arrivavano anche alla depressione con la pensione perché in effetti non sapevano che cazzo fare perché non sapevano erano solo limitati al loro lavoro e quindi io mi chiedo probabilmente rifletto anzi nella maggior parte dei casi in effetti era un lavoro che non ti piaceva perché anche se vai in pensione ti puoi stare attorno a quella tua passione ora rendiamoci conto che della realtà dei fatti che non è scontato non è detto che tu riesca a fare il lavoro che ti piace no e quindi entrano in ballo anche i doveri no se tu hai una famiglia e quindi se tu vuoi armonizzare la situazione se devi procurare dei soldi è giusto che tu entri in contatto con l'economia per mantenere la famiglia però entri anche devi entrare anche in contatto con la tua psicologia perché se no va a finire tutto che diventi negrotico che non vivi bene non vivi bene nella tua famiglia non fai vivere bene la tua famiglia perché vabbè puoi portare un sacco di soldi però poi c'è del malore quindi bisognerebbe in quei casi bisogna elaborare mi viene da dire se stessi bisogna comprendersi bisogna accettare e dire sì vabbè non mi piace fare il panettiere ma io lo faccio perché mi piace avere mantenere la mia famiglia per bene mi piace avere mia figlia che sta bene e quindi ok tutto a posto con quei soldi io sono felice perché riesco a fare stare bene un'altra realtà se no poi come hai detto tu si crea un circolo vizioso che arrivate al pensionamento e poi è fine il fatto è che poi bisogna sapersi reinventare a prescindere dal lavoro che ti piace o meno no Ivan si quanto meno quando scegli appunto che lavoro fare non dovresti fare un lavoro che non avresti mai fatto quindi addirittura entrare in conflitto con la tua visione del mondo con la tua morale personale ecco quello certamente ti porterebbe a un livello incredibile di disallineamento e quindi a uno stato patologico molto accentuato io per esempio proprio giovedì su podcast fiore ho intervistato in diretta una un'archeologa che adesso è in pensione questa archeologa era la direttrice e lo è stato per molti anni di un sito unesco italiano della necropoli di Cerveteri la necropoli della banditaccia ebbene lei ha fatto sto mestiere per tutta la vita e poi una volta entrata in pensione qualche anno fa ha continuato a fare quello che ha sempre fatto quindi ha continuato ad aggiornarsi sull'archeologia ha continuato a scrivere testi di archeologia e contemporaneamente ha avuto anche più tempo ovviamente per dedicarsi all'altra sua passione che sono i gialli lei è grande appassionata di Agatha Christie e ha iniziato a scrivere dei gialli e adesso per esempio sta ultimando il suo ultimo libro lo stava portando poi in stampa e verrà appunto presto pubblicato ecco lei anzi lei non ha il tempo di fare tutto quello che vorrebbe fare perché era completamente allineata tra quello che le piaceva fare e appunto il lavoro che riuscite a trovare che poi in realtà non è che sia bello fare il direttore di un sito unesco così grande ci sono delle magagne incredibili non era quella la sua vocazione la sua vocazione era quella di dedicarsi all'archeologia e quindi insieme a questo per motivi di carriera a cui ovviamente non poteva sottrarsi ha dovuto anche fare la direttrice di museo un'esperienza bellissima certo ma non è che tu la tua passione è quello di fare il direttore di un museo e quindi appunto lei è riuscita è riuscita sempre a calibrare questi due questi due fatti questi due questi due piatti della bilancia e infatti giovedì ci ha parlato in una maniera molto appassionata bellissima ha tenuto incollati anche ragazzi molto giovani che ci stavano ascoltando e che partecipavano con delle domande in diretta la sua passione proprio la vedevi io sinceramente non me l'aspettavo perché è una signora in pensione quindi magari pensavo non avesse molta dimestichezza con il parlare di queste cose a un pubblico giovane e invece ce l'abbiamo fatta può succedere poi anche un'altra cosa arrivata al pensionamento magari puoi dedicare più tempo a ciò che ti piace fare e quindi incrementare magari invece tu non l'hai saputo cosa è che ti piaceva fare davvero fino a quando non sei arrivato in pensione dopo un lavoro che in effetti non ti piaceva più di tanto e allora scopri te stesso scopri cosa ti piace fare magari continui a lavorare proprio riguardo quello che ti piace fare sono sicuro che tutto si compensa e proprio riguardo questo ricordiamoci che comunque tutte le figure professionali lavorative sono importanti dal cameriere al dog sitter anche se il dog sitter magari non è la figura professionale nel senso che serve ma non lo fai per mantenere magari la famiglia il panettiere sì il cameriere sì parlo di tutte queste figure che magari sono un po' snobbate ma in realtà tu il pane dove lo compri in realtà chi ti serve il ristorante chi ti taglia i capelli chi è che raccoglie la spazzatura quindi tutto si compensa sì ovviamente si spera di non arrivare alla pensione prima di scoprire no quali sono le cose che ci piacciono e poi tra l'altro a parte la poesia che c'è nel nel fare nel veder fare a certi mestieri che si stanno perdendo oggi che vogliono tutti fare i fisici nucleari e ci si dimentica delle vere cose che servono per la vita no cioè metti anche facciamo un'ipotesi per assurdo Davide no succede una catastrofe planetaria eccetera non ci serviranno i fisici aerospaziali ci serviranno invece persone che sanno fare il pane persone che sanno aggiustare una porta eccetera ma al di là di questo ovviamente cosa ti porta anche il fatto di avere la libertà ecco è una questione di libertà avere la libertà di potersi dedicare e la libertà ce la si crea in realtà basta organizzarsi e questa possibilità c'è di potersi dedicare appunto a ciò che ci piace fare sia nel caso in cui sia il nostro lavoro sia nel caso in cui non sia il nostro lavoro in entrambi i casi comunque le altre persone ci potrebbero vedere un po' con gli occhi sgranati perché di fatto saremmo sempre a lavorare quindi o il nostro lavoro ci piace tanto e siamo sempre lì ad aggiornarci inventare cose nuove eccetera e ci divertiamo e questo diventa quasi la nostra linfa vitale oppure non è il nostro lavoro ma quando finiamo di fare il nostro lavoro le classiche ore della giornata poi ci dediciamo alla nostra passione e lì ecco che rinasciamo no di fatto quindi siamo sempre impegnati nelle attività e allora c'è sempre poi chi ci dice ma ma chi te lo fa fare ma perché sei sempre così impegnato sei un terminator mi hanno detto anche sei una macchina da guerra eccetera ma in realtà non lo vivo con pesantezza io personalmente capito mi piace tanto farlo ieri non sai quanto ieri domenica tutta la giornata impegnata a lavorare a Fiore Kids del quale abbiamo parlato due volte fa e mi sono divertito un sacco tu non hai idea ho fatto tutto ieri ieri ho immaginato i contenuti da portare nella seconda puntata questa è un'anticipazione Davide perché l'ho registrata ieri pomeriggio ma la pubblicherò poi domenica ogni domenica ho parlato dell'elettricità quindi quanto di meno divulgativo possa esistere secondo alcuni da parlare poi ai bambini dai 6 fino ai 13 anni e io ho trovato il modo di parlare di elettricità in maniera interessante in maniera divertente io stesso mi sono divertito in 20 minuti e ho spiegato a questi bambini a questi ragazzi qual è anche la tensione elettrica che si trova all'interno dei circuiti dei nostri strumenti tecnologici che è praticamente 220 volt e gli ho fatto anche capire a questi ragazzi che quasi nessuno nel mondo degli adulti sa queste cose e noi invece ieri su Fiore Kids le abbiamo scoperte quindi ho fatto i contenuti ho registrato buona la prima tutte e due le puntate ho fatto la post produzione un sacco di lavoro ho fatto i sottotitoli in italiano in inglese eccetera e mi sono divertito tanto tutta la giornata però mi sono tanto divertito e sono stato bene anche oggi sto bene bellissima bellissima iniziativa bellissima quello che hai detto io sono del parere invece che comunque sì quando fai il lavoro che ti piace magari si dice che non lavori allo stesso tempo però dare del tempo a se stessi è importante anche se fai quello che ti piace fare in effetti il terminator cioè che tu parlo continuamente nel senso che il riposo è importante cambiare attività magari io lo concepisco così perché mi rendo conto che quando lavoro ad un progetto se io non faccio una pausa non riesco più a lavorare bene però mi rendo conto anche che la pausa mi serve per migliorare il progetto poi certo sono punti di vista ognuno lavora a un modo suo però a prescindere secondo me dare del tempo a se stessi significa anche riposarsi ora vorrei dire un'ultima cosa onde di dare una nevrosi chiudiamo qui la puntata guarda ti posso dire anche un'ultima cosa Davide me l'hai fatta venire in mente proprio adesso condivido appieno quest'ultimo tuo pensiero ti faccio questo esempio perché ieri mi sono sentito con un mio carissimo amico mi diceva che una persona che lui conosce praticamente è alla sua stessa età quindi circa 18 anni addirittura è talmente impegnata questa persona ogni giorno ogni settimana che non sta sentendo nessuno da almeno un mese quindi nessun suo amico nessuna sua amica ed è completamente chiusa nel suo mondo che deve fare i suoi impegni no ma questa è una cosa gravissima non è assolutamente equilibrata una persona del genere infatti per esempio tu sai che io mi ritaglio sempre e li faccio entrare nella mia routine dei momenti in cui mi vedo con le persone a cui tengo e nel momento in cui mi sento anche con le persone che sono lontane ma a cui voglio molto bene no e le faccio entrare nella routine non è vero che non c'è tempo non ci può non essere tempo per questo questa è una delle cose uno dei pilastri fondamentali come per me l'attività fisica il resto viene dopo ma il tempo per questo non può mai mancare è una volta ogni due settimane ogni settimana ok però quel tempo c'è ed è previsto e quindi rientra nelle cose che faccio e ieri appunto per questo mi sono sentito con questo amico con cui mi sento una volta ogni due settimane in questo periodo perché non riesco di più però c'è hai capito questa è la cosa importante hai detto una cosa fondamentale hai praticamente dettagliato il pensiero che ho detto io in precedenza mi raccomando accogliamo i consigli grazie Ivana grazie a tutti concludiamo qui questa puntata di Pax in Fiore e ci vediamo come sempre lunedì alle 17 qui su Telegram e giovedì alle 19 su Podcast Fiore e ci sentiamo anche qui sul podcast che state ascoltando in questo momento su Spotify Google o dovunque sia ciao 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 Davide a presto alla prossima grazie a tutti prima grazie a tutti